Tragedia la notte scorsa a Cava dei Tirreni. Un ragazzo di 26 anni, a effe le sue iniziali, residente a Dragonea di Vieti sul mare, è morto poiché si sarebbe tagliato la gola con un grosso coltello da cucina, mentre si trovava a casa della fidanzata, in località San Giuseppe Alpuzzo. Al momento sono ancora oscure le cause che avrebbero portato il giovane a compiere il gesto estremo. Il fatto è avvenuto intorno alle 4 di stamane. Sul posto sono giunti sanitari dal 118 che hanno trovato il ragazzo in un lago di sangue e quindi non c'è stato nulla da fare. La tragedia ha scosso l'intera comunità di Dragonea, dove il giovane era molto conosciuto poiché con la sua famiglia gestisce un'azienda agrituristica. Indagini in corso da parte dei carabinieri per far luce su quanto è accaduto.